Ezio Di Cristoforo, presidente di ACA, azienda comprensoriale alquedottistica, Marcello Lancia, amministratore unico dell'Ater di Chieti, il dirigente dell'Ater di Chieti Ernesto Marasco, Alessandro Faraone, geometra dell'Ater di Chieti e Salvatore Tasso, geometra del settore lavori pubblici del comune di Montesilvano, sono da questa mattina gli arresti domiciliari. I reati contestati a vario titolo, quelli di corruzione, concussione, turbata, libertà degli incanti, falso e truffa. In mattinata l'operazione congiunta del corpo forestale di Pescara, di Chieti e di L'Aquila e della squadra mobile di Pescara che hanno eseguito le misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Pescara Luca De Ninis su richiesta del procuratore capo Federico De Siervo e dalla PM Annarita Mantini. Sono indagati anche due imprenditori, Claudio Antonio D'Alessandro, l'ex vice sindaco di Cepagatti Leone Cesarino, Renzo Sergiacomo, direttore dei lavori per l'appalto della pubblica illuminazione di Cepagatti, Lorenzo Lorenzo e Giovanni Di Bartolomeo, entrambi funzionari dell'ACA. L'operazione di oggi, denominata Shining Light, è lo sviluppo dell'indagine che il 14 dicembre dello scorso anno aveva portato agli arresti degli imprenditori aquilani Claudio e Antonio D'Alessandro e del vice sindaco di Cepagatti Leone Cesarino. Desicisivo è stato il rinvenimento, in quell'occasione, di una contabilità segreta che lo stesso GIP, nella sua ordinanza, definisce Mastrino delle Tangenti, in cui l'imprenditore Claudio D'Alessandro aveva annotato una serie di dazioni di denaro consegnate a più pubblici ufficiali. È per questo che l'imprenditore, anche alla luce del compromettente materiale probatorio raccolto, ha maturato la volontà di collaborare con gli inquirenti. E nel corso di una serie di interrogatori poi riscontrati con ulteriore attività investigativa, è venuta alla luce un articolato sistema illecito basato sulla sistematica manipolazione di gare pubbliche espletate tra il 2010 e il 2012, tutte sotto la soglia di procedura comunitaria e dunque condotte con procedura negoziata, in cui le ditte da invitare venivano preventivamente individuate in accordo con i pubblici ufficiali ed erano tutte riconducibili ad un unico centro decisionale, perché fiduciarie del D'Alessandro. In cambio della giudicazione degli appalti, l'imprenditore garantiva dazioni illecite, denaro contante o beni immobili nella misura del 5-6% del valore della gara o assunzioni clientelari. Le gare turbate bandite dall'ACA sono quelle relative alla manutenzione ordinaria della rete fognaria di Pescara negli ultimi quattro anni per un comporto complessivo di 1.600.000 euro. Stando alle indagini, le tangenti corrisposte al presidente dell'ACA, Ezio Di Cristoforo, in più tranche, ammontano circa 50.000 euro con la promessa di ulteriori 48.000 per l'aggiudicazione dell'appalto per la manutenzione fognaria nel bienio 2013-2014. Turbate anche le gare bandite dall'ATER di Chieti, quelle relative alla riparazione dei danni provocati dal terremoto del 6 aprile 2009 alle palazzine di Via Terno per un importo complessivo di 1.200.000 euro. Stando alle indagini, le dazioni corrisposte da Claudio D'Alessandro a Marcello Lancia, ammontano circa 9.000 euro a cui si aggiungono ulteriori d'azioni corrisposte a Ernesto Marasco e Alessandro Faraone. Per quest'ultimo l'imprenditore, sempre secondo l'accusa, ha pagato anche il mobilio della cucina. Le gare turbate e bandite al comune di Montesilvano sono quelle relative ai lavori di completamento della scuola di Villa Verrocchio e per i lavori di Via Maresca per un importo complessivo di 900.000 euro. Per l'accusa sono state corrisposte a Salvatore Tasso, RUP di entrambe le gare d'appalto, d'azioni pari a 9.000 euro con la promessa di altri 29.000 da corrispondere in varie tranche. Infine le gare turbate e bandite dall'ufficio infrastrutture dell'esercito sono relativi ai lavori svolti alla caserma Clementi di Ascoli Piceno e alla caserma Falcinelli di Ancona per un ammontare di circa 400.000 euro. In relazione a questi appalti, Claudio D'Alessandro è accusato di aver consegnato ad un tenente colonnello 20.000 euro in varie tranche. Gli inquirenti hanno accertato anche l'assunzione del figlio dell'ufficiale in una ditta riconducibile a Claudio D'Alessandro. Il tenente colonnello è il dodicesimo indagato nella vicenda ed è anche lui destinatario di una misura cautelare ai domiciliari ma attualmente si troverebbe in vacanza all'estero.